Lei ha detto che è un miracolo. Temo sia successo qualcosa alla ragazzina. Sì, si chiama essere dei Nova Corps. Ce la fai ad aggiustarlo? Sì, sì, non farti venire un colpo. Qui devo fare un colpo? Controllo la matrice. Posso farlo tornare? Posso far tornare tutti? Devo sì. Sì, 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 sì.